È il 29 dicembre del 2022, stavo venendo a piedi qua dietro per arrivare alla Certosa. Come fai a non fermarti? Se avessi avuto la macchina mi sarei comprato davvero una cassetta di agrumi. Non è solo la disposizione che il Bravo Curna fa per attirare i clienti, ma è la qualità che attira qui. Qui in questo negozio si respirano tutte le stagioni, estate, autunno, inverno, primavera, con tutti questi colori, gli odori e poi i sapori quando li portate a casa. Quindi come fare a non entrare qui e non comparsi la qualità? Perché qua veramente puntano soprattutto poche cose ma buone, non è che hanno 2000 tipi di agrumi, hanno 2-3 tipi di arance, puntano soprattutto sulla qualità. Quindi venite, poi i loro modi di fare, vedete, sono in tre, si divertono, scherzano tra loro, è una famiglia qua. E poi la gente si sente come a casa. Oggi abbiamo anche nuovi tipi di limoni, vedete, poi non è che è tutto a casa. I mandarini particolari con le mere, le pere, gli ortaggi, hanno una sistemazione particolare. Signor Paolo, buongiorno. Buongiorno Gigi, come stai? Passavo da qua a piedi e mi sono fermato. Mi fa piacere, sei sempre il benvenuto. Come mai le arance fuori anziché dentro? E danno più un'ottica diversa all'entrata del negozio, proprio il colore, già natalizio, arancio, rosso, capisci? Dà un bell'impatto, va. Sentite, a questo punto non diciamo il prezzo però, che avete anche le ciliegie. Abbiamo le ciliegie extra, venga, venga, venga. Da dove arrivano? Venga, Argentina. Argentina, perché uno viene qua e trova le ciliegie. Argentina. Vediamo un po' dal vivo, in diretta. Guarda, sono rimaste solo queste, guarda. Non diciamo il prezzo perché è giusto riservato, però guardate le ciliegie, e sono buone. Ti possiedono dei duroni. Sì. E poi sentite, ho visto che sono arrivate le uova fresche. Sì. E questo è importante da dire che non ce ne trovano. Sì, sì, sì. No, no, no. E le olive. Sì. Che differenza c'è tra queste due? Questa è condita, già speziata, e questa invece è al naturale, solamente con l'acqua. Senta, chiudiamo l'intervista con un'ultima domanda. Cos'è questa sacchetta arancione, se ce lo fa vedere? Mi chiedevano, mi chiedevano un altro giorno. Lenticchia, lenticchia. Lenticchia arancioni. Sì. È sgusciata. E le altre lenticchie normali? Normali, sì, è qua. Va bene, grazie e buone feste. Di niente, grazie a te, Gigi, sempre gentilissimo. Gentilissimo.